All'epoca quando abbiamo deciso di fare questi incontri, il filo conduttore era trasformare il proprio presente, indipendentemente dal motivo, indipendentemente dall'ambito della vita e trasformare il proprio presente era una prospettiva legata a fare in modo che il presente da ostacolo diventasse casa, da un mezzo per raggiungere qualcosa che mi salverà potesse diventare riposo, questo è trasformare il proprio presente, non è cambiare tutto quello che non ti va della tua vita, perché sostanzialmente cambiare qualcosa fuori come cambiarsi di vestito, non mi piace questo vestito, mi sta male, mi si vede la pancia, mi cambio il vestito, ok, la pancia rimane, ok? E quindi noi proviamo, proviamo, proviamo ad andare in questa direzione e le cose rimangono uguali. Uscire da noi, andare via da noi è un'abitudine che abbiamo avuto fin da piccoli. Andare via, assentarci, era una delle pratiche, delle tecniche più semplici per evitare di shock forti, quella immaturità emozionale che ha un bimbo non gli permetteva, non ci ha permesso di affrontare determinate cose, quindi assentarci era una delle cose più semplici. tutti abbiamo fatto questo movimento, pensavamo che andarcene era più sicuro che stare, il nostro corpo c'era, ma la nostra fantasia, la nostra mente, la nostra attenzione era rivolta verso qualcos'altro. Vi ricordate averlo fatto? Succedeva qualcosa o una sgridata, io mi ricordo che davanti a grandissime sgridate, fantasticavo, dico vabbè prima o poi finirà. È vero che prima o poi finirà, ma l'impatto che questa voce alta aveva su di me era indubbiamente forte. il messaggio era di là è più sicuro che di qua. Adesso invece dovremmo ricordarci che è il contrario. Cioè quando ci viene voglia di andarcene è il momento di rimanere. Ma sto parlando dell'istante nel quale la nostra attenzione se ne va perché crediamo che sia meglio. Perché il libro che stiamo leggendo ci sta toccando parti che magari ci vanno e non ci vanno. Quante volte vi siete trovati a leggere e dover rileggere perché non vi rendete conto, non vi siete resi conto di quello che avete letto fino a quel momento. Tocca qualcosa, la nostra attenzione sparisce. Perché è più sicuro là, di qua. Adesso siamo adulti. Cosa vuol dire? Che abbiamo la struttura per quanto la parte esterna sia un po' ferita e frammentata, abbiamo una maturità per poter prenderci la responsabilità di quello che ci accade. Quando ci accade? Ora. Questo è trasformare il proprio presente. Ricordarsi questo. È un piccolo mantra, è non andartene, rimani. Sentite quello che vi sto dicendo. Voglio che voi facciate questa esperienza. È inutile che ascoltate quello che io ho da dirvi. Dovete farla voi l'esperienza. La stiamo facendo insieme, ci stiamo muovendo insieme. Non è una cosa che è un'informazione intelligente che io vi do. È un'esperienza che voi dovete fare. Che io sia qua o no, voi la fate e ve la portate a casa. E sarà sempre vostra. Sentite l'importanza di rimani. Quando noi ce ne andavamo, ce ne andavamo per mille motivi. Soprattutto una delle prime volte che abbiamo iniziato ad andarcene era di fronte alla paura. La paura era uno dei sentimenti, delle emozioni più frequenti, soprattutto dal momento che iniziavamo a muoverci. E la paura è anche uno dei primi sentimenti che noi rifiutiamo. Cosa faceva? Emergeva la paura. Per contesti esteriori la reputevamo sbagliata, ci assentiamo e iniziava la prima separazione. A metà. La parte di me che ha paura, via, in un cassetto. E la parte senza paura, fuori. Poi la rabbia, via. La parte arrabbiata nel cassetto con la paura. E la parte senza rabbia e senza paura, fuori. Fino che siamo diventati puzzle a milioni di pezzi. Completamente frammenti. Frammenti. Seguite quello che vi sto dicendo? Questi frammenti sono in conflitto costantemente uno con l'altro. Noi abbiamo un'attenzione, che è quella che si accorge di tutto, una coscienza, che ha la capacità di identificarsi con... Quando noi ci identifichiamo col frammento, si chiama ego, ci sentiamo piccoli e abbiamo paura. Mi seguite? Il frammento osserva e quindi iniziamo a leggere libri nei quali si parla di osservare quello che ci accade. È tutto funzionale a le relazioni. Perché stiamo parlando della relazione con noi stessi. Mi seguite? Quando parliamo, sentiamo parlare di osservatore, di osservare. Cosa succede? Un frammento osserva l'altro. E lo giudica. Cioè noi prendiamo la decisione, la nostra attenzione si sposta verso un altro frammento che inizia a giudicare. Quindi ci sentiamo spezzettati, piccoli, indifesi, insicuri e cerchiamo di combattere costantemente per avere quel leggero senso di riposo che non l'abbiamo mai. Qualche buona notizia arriverà? Sì. Questo senso di essere frammentati ovviamente lo percepiamo. Lo percepiamo. Io lo chiamo così, ma potete percepirlo, possiamo percepirlo. Quanto effettivamente vi sentite stanchi, pieni di dubbi, di decisioni da prendere, le decisioni. sai, si dice, uno che è libero può decidere. Anche la decisione stessa in realtà è un frammento. Cioè scelgo che frammento usare. Quando uno è un individuo, quindi quando una persona è intera, non è che sceglie, agisce. Risponde e agisce. Non deve scegliere fra un frammento e l'altro. Mi seguite? Quindi anche l'inganno della libertà di scelta. individuo cosa vuol dire? In, cioè no, come suffisso, dividus, divisibile. L'individuo è qualcosa che non è divisibile, è un pezzo intero. Cioè è un organismo, un essere, che frammentato perde il suo valore iniziale. Quante persone nel mondo sentono di aver perso il loro valore? Ok? E nessun corso per l'autostima ce lo ridarà. Anche perché è lo stesso frammento che si scrive al corso di autostima, no? Siamo partiti dall'assentarci come strategia. Come si fa? La domanda che tutti dovremmo farci. Come si fa a ritornare interi? La prima possibilità in assoluto è quella di smettere di assentarci. Quindi è quella di presentarci, di farci presenti. Di quando il frammento dice andiamo, tu dici no, resta. Cioè riconoscere chi sei tu come individuo, quindi il tuo sé vero, ti permette di vedere tutte le false identificazioni dei frammenti. È un percorso. Quindi iniziamo tornando presenti. Presenti cosa vuol dire? presenti. Presenti vuol dire senza tempo. Potete immaginare per un momento che le lancette dell'orologio di tutto il mondo si fermino? Le cose continuano a muoversi, ma il tempo è fermo. Tutti continuiamo a muoverci, ci rendiamo conto, ma tutto si ferma. Riuscite a rendervi conto di, a immaginare solo per un momento che quello che stiamo vivendo sia uno spazio fermo all'interno del quale delle cose appaiono e scompaiono. Non c'è movimento. E tutto quello che c'è, ora, così com'è, va bene così. Sì, però domani ho l'appuntamento. Sì, ora. Riuscite a lasciare essere tutto così com'è per un momento adesso? La vostra sedia, il vostro vicino, la mia voce, le luci, il caldo, il freddo. Riuscite? Niente accumulazione. La mia voce arriva, entra da un'orecchio e esce dall'altro. Non la tenete neanche. Non c'è neanche bisogno di tenerla. Vi attraversa come se fosse una frequenza, ma non dovete memorizzarla. Non solo perché è tutto registrato, ma perché quello che stiamo facendo non è accumulare informazioni, sino lasciare che la mia voce, attraversandovi, risvegli qualcosa di voi. Quante volte avete avuto la sensazione di ricordarvi qualcosa? No? Non di imparare cose nuove, di ricordarvi qualcosa. Mi seguite? È molto seria questa cosa. E in questa serietà c'è una gioia impressionante, un'allegria incredibile, perché proprio da questo principio base tutto si sviluppa. Essere presenti vuol dire smettere di avere un sacco di problemi, smettere di sentirsi insicuri, anche perché il posto più sicuro dove possiamo essere è proprio questo. E sapete che non sto parlando di questa libreria, ma sto parlando di essere seduti sulla sedia nella quale siete seduti, che si presume essere il vostro scopo di vita ora. Essere esattamente dove siete. È come essere consapevoli e coscienti di assolvere il proprio scopo di vita primario in questo istante, sapendo che non dovete fare altro che essere dove siete. per me è incredibile. E da qui possiamo permettere alla pace di sentirci, completamente. Come sempre non è un fare, questo percorso, il lavoro su di sé non è un fare. C'è più silenzio di prima? Da qui iniziamo a muoverci. Per donare una persona è possibile? Questa è la prima domanda. Dal frammento no, non è possibile perdonare una persona. Anche perché la strategia del piccolo me è comunque una strategia di attacco. E vede il rancore come una soluzione. Tu mi hai fatto qualcosa di male, io ti provo rancore. Provo rancore nei tuoi confronti. Come se fosse un qualcosa che cambia sostanzialmente. Ti punisco provando rancore nei tuoi confronti. Mi seguite? Cioè c'è questa persona che vive da una parte e io provo rancore per questa persona. E questa persona continua a vivere. E io ne provo ancora di più per questa persona. E questa persona continua a vivere e io mi uccido per provare rancore a questa persona. Chi è che sta provando rancore? Chi è che sta sentendo le emozioni di rancore? Ovviamente io. Ha senso tutto questo? Ha senso farlo? No. Poi scopro che c'è uno spazio più ampio che è uno spazio sicuro. È uno spazio che parte da qui. Da ritornare a me. E da qui posso veramente sentire le emozioni per il quale io provo rancore. Perché io non provo rancore per quello che ha fatto quella persona. Io provo rancore, cioè mi chiudo in un muro perché non voglio sentire le emozioni che quella persona mi ha fatto sentire. Perché il gioco è sempre con me frammento su frammento in conflitto. Io posso bruciare quella persona, i frammenti smettono di combattere, smettono di essere in conflitto. Dopo un giorno, un mese, un anno arriva un'altra persona e inizia di nuovo il conflitto. Mi seguite? Questo è lo schema ripetitivo, non è quello che accade fuori, è quello che accade dentro. Sì? Quindi perdonare una persona è possibile sì solo da un altro stato di consapevolezza. Dal momento che noi ritorniamo e siamo capaci di ritornare, togliere finalmente l'attenzione da questi frammenti e riportarla qui, lasciarla riposare per un momento qui, quindi sentirci finalmente sicuri. Non sto parlando di tutto il ciclo fino a un risveglio totale. Io sto parlando di essere qui, che è il primo passo fondamentale. è proprio il primo bottone della camicia, è infilare il filo nella corona di un ago per iniziare a cucire. E' il fulcro, è il fulcro. Però già quando inizio questo percorso mi trovo in uno spazio dal quale perdonare diventa un atto possibile. Io non perdono l'altra persona, ovviamente. Perdono le idee che io ho dell'altra persona fino a che riesco a riconoscere l'innocenza. Quando la nostra attenzione è identificata in un frammento, non c'è consapevolezza. Se non c'è consapevolezza, i movimenti sono completamente automatizzati. Pensiamo quello che pensiamo, sentiamo quello che sentiamo e non abbiamo scelta. Non abbiamo scelta. Non abbiamo scelta noi e non abbiamo scelta l'altra persona. Quando ritorniamo alla nostra vera presenza, ci rendiamo conto che la presenza è sempre stata lì. Quello che viene chiamato l'amore è sempre stato lì. Quindi l'amore faceva comunque parte di questo gioco. E' solo il frammento che non riesce a comprendere niente perché non ha una prospettiva lucida. Quindi perdonare una persona sì, è possibile. Il perdono ovviamente è qualcosa che parte da noi. Non è una cosa che devo, non è una lettera che io devo scrivere ti perdono, non è un atto arrogante perché il frammento lo percepisce come atto arrogante. Tu hai sbagliato, io però ti perdono perché sono migliore di te. Ti è. No. Non è necessario che io ti dica ti perdono. Non è necessario. È un atto mio. E questa persona continua a vivere e io inizio a perdonare nel senso vero della parola, cioè a liberarmi completamente di qualunque idea io mi sia fatta su quella persona. È un atto d'amore. Questo atto d'amore è possibile solo se noi siamo presenti. Se sentiamo le sensazioni che hanno, che non volevamo sentire legate a quella persona, perché vi ricordate cosa ho detto? io non odio quella persona, non provo rancore per quella persona, per quello che mi ha fatto, ma perché mi ha fatto vedere emozioni che io non volevo vedere. Quindi se io sono presente, ritorno a me. Se ritorno a me, posso sentire le emozioni che quella persona va generato e avere la forza di amare di nuovo quella persona. Amare nel senso più ampio del termine. È un percorso. Com'è possibile comunicare bene quando l'altra persona sembra non voler sentire? E comunque, cosa vuol dire comunicare bene? La comunicazione. Ovviamente nel relazionarsi non c'è niente di più importante che la comunicazione. Comunicare vuol dire mettersi in comune. Giusto mettere se stessi, non solo i propri concetti, in comune. Quello che noi stiamo facendo. La domanda, la prima parte dice come è possibile comunicare bene quando l'altra persona sembra non voler sentire? Secondo voi chi è che non vuol sentire? Un detto diceva se vuoi veramente, non so un detto da me o da qualcun altro, oggettivamente non ho idea, se vuoi veramente ascoltare qualcuno, vuoi che qualcuno ti ascolti, taci e inizia tu ad ascoltare. Ovviamente non avendo la persona davanti tutte queste risposte sono, devono essere vestite da ognuno per la propria esperienza personale. Tutti avete qualcuno, avete incontrato una volta qualcuno nella vita che dicevi qualcosa ma proprio non c'era la possibilità di far arrivare il messaggio. Non solo perché abbiamo amici di questo tipo, ma perché siamo stati bambini. Chi meglio dei nostri genitori non ci ascoltavano. Anche solo perché il linguaggio nostro limitato si credeva che le priorità di un bimbo, si crede che le priorità di un bimbo siano inferiori rispetto alla priorità di un adulto. e quindi il bimbo dice mamma, 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 no? Sapete, avete quante volte abbiamo urlato mamma o papà o chi per loro? Perché non sentono, non ci arrivano. Da adulti ci rimane un po' questa cosa, quindi carichiamo spesso chi non ci ascolta lo carichiamo di una responsabilità eccessiva. gli portiamo il carico, cioè tu non mi ascolti, io non ti lascio quel pacchettino che solo giusto limitato al fatto che tu non mi hai ascoltato oggi. Ti porto tutto il mio carico, spesso accade nelle relazioni, no? La mia compagna o il mio compagno pagano tutto. C'è sempre un consuntivo che arriva diretto, sapete, no? Con gli interessi. Con gli interessi. Non solo noi lo paghiamo, lo facciamo pagare. Mi seguite? Quello che stiamo facendo è ci stiamo mettendo davanti a uno specchio. Quando voi siete davanti a uno specchio semplicemente guardate. Vi aprite completamente all'immagine che vedete. Giusto? Non è che cercate il buio o vi mettete davanti allo specchio ci sia, c'è quel che c'è. Soprattutto magari il viso dovete truccarvi o dovete pettinarvi in un certo modo dovete mettervi davanti allo specchio. Possiamo guardare solo i nostri difetti. Io vi sto chiedendo adesso di guardare allo specchio qualunque cosa vediate. Cioè davanti allo specchio non mi voglio diverso, non sto cercando di cambiare qualcosa, l'immagine che vedo è quella, una sorta di testimoniare quello che accade. Mentre io parlo accade qualcosa, voi semplicemente lo osservate come se fosse davanti allo specchio. Tanto è tutto in movimento, dimenticatevi questo strano principio che è tutto fermo, è tutto in movimento. Nel caso di una persona che proprio non ci ascolta, non ci ascolta, prendete, immaginate una persona che non vi ascolta, ce l'avete? chiedetevi perché io voglio che questa persona mi ascolti? Qual è l'emozione che c'è dietro? Di cosa voglio convincerla? Perché voglio tanto che questa persona mi ascolti? Di cosa ho paura? Cosa credo che capendo lei mi darà? Quindi il focus come sempre come nel perdono o nel rancore è quello che io sento. È inutile che poi proiettiamo tu non mi ascolti e ma evidentemente neanche tu ti stai ascoltando perché c'è dietro un'emozione che si sta muovendo e ti sta spingendo a forzare qualcuno che non ti vuole ascoltare. Quindi questa è l'esperienza. Quando io ho bisogno che qualcuno per forza mi capisca o mi ascolti oltre a rendermi conto che non sto rispettando questa persona no è lei che non sta rispettando me perché non mi ascolta frammenti che combattono ok sono adulto e posso rendermi conto che l'esperienza che io sto avendo sta accadendo dentro di me non sono più un bambino che ha bisogno che mamma o papà mi ascoltino sta accadendo dentro di me. Ciao Luca puoi parlare della gelosia e dell'invidia? Gelosia e invidia conoscete queste due sensazioni? Siete non accettate mi dispiace mi dispiace tantissimo ma non accetto uno anche perché siamo esseri umani l'essere umano è un'antenna e come antenna riceve tutte queste informazioni riceve gelosia riceve invidia riceve rabbia bla 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 a seconda di quanto poi il frammento del momento è intellettuale o spirituale potrà dire io ma noio e invece è un'esperienza fisica è un'esperienza carnale animale possiamo solo avere il coraggio di osservarla gelosia e invidia sono strettamente collegate perché ovviamente io sono geloso che tu mi tocchi questa cosa e me la stai toccando tu che sei invidioso che io ce l'ho e tu no mi seguite? è abbastanza semplice l'oggetto è sempre quello non guardare questa non mi toccare questa cosa donna uomo macchina oggetto indipendentemente no io invece voglio toccartela perché tu ce l'hai io no ok sono strettamente collegate partono sempre da una sensazione di identificazione con l'esterno il frammento cerca se stesso essendo piccolo cerca quella sicurezza che il momento presente abbiamo visto che ci dà straordinariamente trasformando il nostro presente da mezzo per raggiungere un fine a fine stesso quello che dicevamo all'inizio il frammento cosa fa? e sentendosi piccolo cerca sicurezza la cerca fuori donna uomo oggetto e quant'altro io geloso perché l'ho trovato e credo che questa cosa questo foglio mi darà la felicità e visto che io ce l'ho e tu no tu mi invidi mi segui? ci siamo? quindi è lo stesso sentimento io credo che questo foglio mi salverà tu credi che questo foglio ti salverà gelosia perché ce l'ho io invidia poi ce l'hai tu divento invidioso io quindi è il gioco sempre dello stesso frammento siamo piccoli siamo separati proviamo una montagna di paura e cerchiamo di salvarci la vita con cose esterne ogni volta che ci troviamo a vivere gelosia o invidia per favore permettiamole permettiamole perché solo permettendo e sentendo questo fuoco che brucia possiamo ritornare integri perché se no siamo allo stesso punto di prima siamo piccoli succede qualcosa e noi ci assentiamo no abbiamo voglia di assentarci davanti all'invidia o alla gelosia perché non è giusto perché non è spirituale e invece noi rimaniamo e testimoniamo questa cosa questo è l'atto d'amore veramente un atto d'amore enorme tutti quelli che hanno un corpo sperimentano dolore tutti c'è la possibilità di evitare che questo dolore diventi sofferenza quindi per evitare di soffrire qualcosa ma semplicemente di vivere il dolore così com'è sapete la differenza che c'è fra dolore e sofferenza? mi do una martellata sento male dolore ok? ah che stupido mi sono dato una martellata è già la terza volta che me la do ma sono proprio un coglione questa è sofferenza fare in modo che questo avvenimento confermi l'idea che ho di me ho finito da due anni la mia storia ma non riesco a dimenticarla come posso fare? dunque le storie in realtà le storie passate non devono essere dimenticate perché dobbiamo dimenticarle? le dobbiamo dimenticare semplicemente perché non ci va di sentire quelle emozioni quando noi pensiamo a quella storia mi seguite? non è che voglio cancellare qualcosa per cancellarlo lo cancello perché solo il pensiero uff mi fa ancora male quindi anche qui come sempre la responsabilità dov'è? io posso assolutamente sedermi ho accompagnato mille volte a fare questo le persone possono anche con una presenza importante farlo da sole andare a ripulire le emozioni che ci sono dietro quello che accade quello che è accaduto se non lo fanno se non lo fanno una settimana dieci giorni un mese due mesi arriva un'altra situazione che le fa rivivere tutte tutte vi è mai capitato di non accettare una cosa e riviverla esattamente identica dopo un mese un anno quindi non c'è da dimenticare la storia c'è semplicemente da prendersi la responsabilità delle sensazioni che sento quando io mi guardo indietro perché anche quello che ti ricordi della tua storia e la tua percezione che hai della storia non è quello che è davvero accaduto perché come sempre il frammento frammenta anche la realtà e la filtra con l'unico intento di confermarsi tutti questi atti partono come sempre da ritornare presenti al sicuro qui anche perché questa può avvenire solo adesso quando noi ci ricordiamo di qualcosa passato che ci fa male non è passato se il male lo sento adesso mi seguite? come fa a essere passato? il male che sento è adesso quindi adesso che io mi devo prendere la responsabilità di quello che sento se io vi dico pensate a una cosa brutta voi il male lo sentite ora pensate a una cosa bella il bene lo sentite ora e non state vivendo quella cosa state vivendo l'idea che voi avete di quella cosa sto iniziando una bellissima storia ma ho paura che finisca a causa dei miei schemi ripetitivi non voglio assolutamente che accada mi puoi dire qualcosa a riguardo quello di prima che ha già trovato un'altra persona e mi ha rifatto la domanda se tu vuoi dimenticare la storia di prima avrai paura che quella nuova sia identica a quella prima mi seguite? quindi vedi la risposta sopra tu sei vita la vita fuori è vita ti vuole vivo ogni cosa che accade è finalizzata solo al tuo risveglio punto qualunque cosa qualunque cosa va bene così qualunque cosa va bene così il piano per la salvezza unico è quello della vita mi ha rifiutato va bene ti ha rifiutato e quindi? mi sento bloccato voglio di terminare la relazione ma ho paura di confrontarmi con la mia partner per non farla soffrire mi aiuti potrei chiamarla io per non farla però anche qui qui cosa abbiamo una persona che vuole terminare una relazione però non vuole far soffrire l'altra persona ogni relazione ti prepara quella successiva ognuno ognuna non c'è la possibilità di saltare dei passaggi quello che tu posponi o non vivi la vita te lo pospone come la sveglia no? ancora 5 minuti va bene ancora 5 minuti va bene ancora 5 minuti muori è un'altra vita ma che scherziamo non c'è fretta non c'è fretta quest'ansia spirituale o del lavoro su di sé dimentichiamoci la volta non è necessaria tanto che sia questa vita o la prossima o quella dopo di cose da fare ce ne sono un sacco quindi ho voglia di terminare la relazione ma ho paura di confrontarmi con lei per non farla soffrire è il passaggio fondamentale chiaramente qui la paura di far soffrire cosa c'è? colpa quindi qua la sensazione da sentire effettivamente questa se provo colpa sono un frammento se sono frammento sono piccolo se sono piccoli cerco di evitare perché il mio piano per la salvezza è evito questo problema lei lo capirà e io intanto faccio altro è sbagliato sei al punto di prima uguale alle domande precedenti mi seguite? è chiave questo punto è chiave quindi dal momento che io ho paura di confrontarmi con una persona per dirgli quello che sento i motivi possono essere mille ne elenco due o tre io non ho chiaro davvero questa fine perché probabilmente mi cago sotto non a lasciare questa persona ma a affrontare tutto quello che ne deriva primo secondo il provare senso di colpa il non provare scusate senso di colpa è più importante che vivere la mia vita cioè anche qui mi assento da una sensazione mi assento dalla mia vita cioè le luci in casa sono accese ma io non ci sono quante volte è capitato questo io vedo a volte delle persone guardo negli occhi e vedo che le luci sono accese ma in casa non c'è nessuno incredibile quindi l'unico aiuto che posso che posso darti con una risposta è quello di renderti conto che come la settimana in mistica sapete che ci sono i disegni da fare unendo i puntini ok questi puntini sono fondamentali per la vita non si possono saltare passaggi questo è da affrontare questo fai troverai il modo di amare perché una persona che fa questo non sta amando quando ho così tanta paura di ferire qualcuno è perché non la sto amando e amare non vuol dire non dire la verità la verità guarisce la verità è l'unica cosa che guarisce guarisce te guarisce l'altro guarisce tutti è difficile wow sì casino però è molto più difficile affrontare tutte le malattie che ne derivano da non dire la verità e e la prima malattia collettiva è proprio quella di assentarsi quindi non essere presenti e quindi non riusciamo a esserci non riusciamo a essere al sicuro se non ci sentiamo al sicuro iniziamo a mentire a mentire cioè a manipolare le esperienze per cercare un motivo per essere sicuri e quindi ci ammaliamo dal non essere presenti si ammalano sistema immunitario abbiamo disturbi alimentari e così via dal non sentire le nostre emozioni ci sono problemi a livello sessuale a livello intimo e così via non sentire il nostro potere davvero ci sono solo problemi digestivi ernie è tutto collegato è tutto collegato come sempre ti vago un po' però quindi i puntini vanno uniti ogni passaggio è quello se non hai il coraggio di fare questo passaggio prenditi del tempo però non occupiamo il tempo facendo altro rimaniamo dove siamo non è che ho paura di lasciarti vabbè intanto vado in giro a farmi i cazzi miei poi ti lascio mi seguite? è facilissimo fare così però non stai amando né te né l'altra persona ti ho sentito parlare di relazioni di ego karma e di anima è possibile trasformare una relazione di ego in una relazione di anima? brevemente ego karma e anima ho identificato e ho messo queste etichette in tre tipi di relazione la relazione d'ego cioè uno con l'altro tu io tu io tu io cioè stiamo insieme però sostanzialmente è un cercare la sicurezza nell'altro e ovviamente iniziano conflitti come ma perché tu hai fatto questo no ma perché io ho fatto quello bla bla e si è completamente uno contro l'altro cioè si è esattamente così uno sull'altro e le relazioni vertono sempre su tu non mi hai dato abbastanza di questo tu non mi ascolti tu non mi capisci tu non mi comprendi ma perché tu neanche ma perché tu mi hai fatto questo perché tu mi hai fatto quello a voi non è mai successo sicuramente ma forse conoscete qualcuno che ha delle relazioni così la relazione di karma invece è una relazione leggermente più evoluta cioè ha uno strato dimensionale più profondo che è una relazione all'interno del quale c'è ancora un po' questo tipo di gioco ma in realtà ci si aiuta a vicenda cioè si inizia a riconoscere che l'altra persona mi sta risvegliando qualcosa capisco che non è l'altra persona ma sono è una parte di me che si sta risvegliando quindi mi sta aiutando a integrare qualcosa e io sto aiutando a integrare qualcosa a questa persona come se fosse effettivamente un appuntamento carmico può durare un giorno una notte un minuto ma è magari una sola spinta per muoversi in una certa direzione sono anche appuntamenti che si prendono prima di scendere di un minuto a volte può durare anche tutta la vita una relazione di karma ma rimane comunque sempre legata allo sviluppo dell'individuo non è uno sviluppo coscienziale la relazione d'anima invece sono persone integre o che sono comunque hanno un lavoro su di sé molto importante e sono capaci di stare in piedi e quindi sono da così a così a così sono mano nella mano comunque a fianco girate verso il mondo insieme si autopotenziano per dare qualcosa al mondo quindi la loro felicità si intreccia la loro creatività si intreccia e crea qualcosa di potente per il mondo si può trasformarsi una relazione da ego ad anima in realtà se è già d'anima sì se è già sempre la relazione di ego sostanzialmente non so onestamente se io ho mai visto nella mia vita durare più di una settimana due relazioni di ego pure 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 cosa vuol dire semplicemente due persone che si incastrano per un momento per chiedere all'altro quello che loro non sanno darsi senza che ci fosse veramente dietro un appuntamento più alto mi seguite? solo d'ego io non so se li ho mai visto onestamente per quanto abbia visto migliaia di persone non so se li ho viste c'è sempre dietro qualcosa quindi si può trasformare non è che si trasforma c'è già poi a volte serve un po' di tempo per ripulire il primo strato di durezza di stupidità del frammento l'altro è il mio specchio è vero questo vuol dire che non posso mai arrabbiarmi con nessuno tipico errore da frammento spirituale estremamente spiritualizzato io non mi arrabbio perché la rabbia come dicevamo prima dell'invidia della gelosia è un'esperienza umana poi ci sono strutture comportamentali che hanno che vivono la rabbia proprio come una manifestazione del frammento stesso cioè l'arrabbiarsi è sintomo chiaro del fatto che stanno completamente vivendo la loro vita dal frammento sono delle emozioni base rabbia per il 70% dell'umanità questa emozione base del frammento è frustrazione la frustrazione cioè fare azioni dare fare e non avanzare do 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 faccio mi sbatto e rimango sempre allo stesso punto avete mai sentito questa sensazione dentro è una delle più comuni dobbiamo fare amicizia con questa sensazione perché la rabbia è spesso amor proprio e compresso quindi al di là del fatto che qualcuno è uno specchio mio sì ma se questo specchio tuo arriva invadendoti pesantemente lo spazio significa semplicemente che ti sta educando a tirare fuori la tua rabbia vi seguite? anche questo fa parte del processo quello che accade nella vita quante volte vi è capitato di che qualcuno vi mandasse a quel paese in macchina che succedesse qualcosa che vi sentivate aggrediti vi è mai capitato? lui dice ma perché? perché sei pieno di rabbia fino qui sei pieno di rabbia fino qui io no perché non siamo stati abituati a cacciare un urlo non siamo stati abituati veramente a tirarla fuori quindi in questo momento ci sta esplodendo un po' in mano a volte riusciamo a volte no a volte esageriamo però stiamo cercando di fare amicizia quindi in realtà tutto è un tuo specchio significa che se qualcosa accade stimola la tua rabbia quella rabbia ha il diritto di esistere se continuiamo a averne paura continuiamo a fare il gioco del frammento che ti dice se tu t'arrabbi succede un casino ok tagliamo di nuovo e buttiamo nel cassetto e lasciamo fuori solo quella parte di me che non è arrabbiata mi seguite? faticosissimo come si distingue una dipendenza da una relazione sana e come uscirne? una relazione dipendente è sempre una relazione frammentata continuano ad essere due ego cioè due io piccoli che cercano a vicenda di incastrarsi ho pubblicato un video poco tempo fa legato a questo la relazione è fatta di due persone io tu il clacso è l'amore che fa da ponte io te è l'amore che fa da ponte la domanda iniziale è dipendenza o relazione come distinguerle e come uscirne? siamo qui come è fatta una relazione? cosa tiene insieme due persone? quali sono quelle quella forza quel magnetismo che unisce due persone catene? lacci fisicamente ovviamente no ci sono quelli che vengono chiamati lacci morali la sessualità un po' di altre cose che non stiamo qua a elencare ma soprattutto più che quello che ci lega è come queste cose ci tengono uniti dove passano alla luce o al buio la sessualità che ci unisce passa sul ponte dell'amore che ci sta collegando o passa più basso è alla luce o al buio quindi come distinguere una relazione di dipendenza da una relazione sana potremmo dire in modo molto cristallino è l'amore questa è la grande differenza dal momento che io non amo quindi credo che la salvezza mi arriverà da quella persona e non dalla mia relazione che ho con l'amore mi seguite? molto importante questo che io ho chiamato essere fedeli all'amore e non all'amato la relazione si trasformerà in dipendenza perché la mia relazione non è con l'amore ma è con l'amato quindi io confondo l'amato per l'amore e l'amore è la cosa più grossa che ci sia se io faccio questa confusione è ovvio che io credo che quella persona sia l'unica possibilità che ho di vivere quando in realtà è l'amore che mi tiene vivo non quell'altra persona quindi come distinguere queste cose rendersi conto che io mi sono scollegato dall'amore perché a volte il rischio è anche se io mi ricollego all'amore possono succedere due cose o che non sono più connessa a quella persona per esempio è possibile che in questa relazione di dipendenza creiamo lo spazio a sufficienza per riconnetterci all'amore quindi per ritrovare effettivamente separare di nuovo e non confondere più l'amore e l'amato unirli ma separarli e far sì che la mia relazione sia con l'amore che mi collega con l'amato se io mi scollego e mi riconnetto all'amore è possibile che sparisca quella persona e quindi questo atto al frammento è come se non lasciasse il frammento l'attenzione perché lui ti convince che quella è la salvezza se ti stacchi potrebbe sparire però se ti stacchi ti trovi e quindi non c'è più bisogno dell'altro oppure è possibile che il frammento odi quella persona e in realtà come sempre abbiamo detto che ritornando a noi ci troviamo di nuovo ad amare e amare è il contrario di provare rancore e se il frammento o l'ego vive resistendo alla vita dicendo che le cose così non devono andare e prova rancore trovandoci di nuovo ad amare sentiamo questa sorta di piccola resistenza ancora questo questa disidentificazione è difficile perché è come se facessimo saltare in aria completamente il piano per la salvezza che la nostra mente ci sta in un certo senso indicando la nostra mente o il frammento o l'ego lo chiamo in modi diversi per evitare che le vostre menti che già sanno un sacco fissino perché l'esperienza è interiore ci dice la tua salvezza sarà quando avrai questo lavoro questi soldi questo uomo questa modalità di relazione questa spiritualità bla 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 e invece l'amore ti dice torna qua sia quel che sia e tutto quello che ti accade lo fa solo con uno scopo nella vita torna qua punto però questo vuol dire far saltare completamente in aria il piano per la salvezza che la tua mente ha programmato da un sacco di anni fallimentare totalmente perché continua a essere fallimentare sforzi in mani e siamo sempre più o meno allo stesso punto no siamo un po' più evoluti no abbiamo creato più frammenti evoluti però la rabbia l'invidia la gelosia continuano a emergere quali sono le basi per una relazione d'amore con se stessi le basi le basi sono quella iniziale che è non andartene resta non andartene resta no non andartene via non andartene da qua resta in te in te quello è il primo passo per una relazione sana con se stessi abbiamo una struttura emozionale adulta una mente ancora bambina ma la struttura emozionale è di un adulto quindi per quanto la mente faccia il rumore di un bimbo possiamo restare se io resto mi sento al sicuro se sono al sicuro posso sentire le mie emozioni posso sentire quello che sento cosa vuol dire sentire quello che sento essere onesti mi permetto di essere qua e di essere onesto perché essere onesti è l'atto d'amore più grande in assoluto è la verità non è dire quello che si pensa no essere onesti è sentire quello che senti sento rabbia sento paura perché le esperienze che noi stiamo cercando l'assenza di paura non è un'esperienza umana perché la paura effettivamente è un'esperienza che continuerà a essere umana soprattutto la paura più istintiva quella che ti protegge la paura che ti preserva la paura che ti difende non è la rabbia il problema la rabbia è quella che brucia il superfluo la rabbia è quella che crea qualcosa di nuovo qua stiamo parlando della paura eccessiva della paura quindi della paura che paralizza non della paura che protegge stiamo parlando della rabbia che distrugge non della rabbia che pulisce del fuoco che pulisce quindi stiamo cercando di ritornare non demonizziamo le emozioni osserviamole per fare in modo che diventino e ritornino sane se vedete la differenza che c'è un sacco di persone tristi no sono tristi di essere tristi tristi per essere tristi quindi il problema non è la tristezza il problema è soffrire il dolore che genera una tristezza la sofferenza quindi le basi per una relazione d'amore sono ritornare qui essere onesti sentire quello che sento se sento quello che sento ritrovo il mio potere e da lì sono capace di amare il tema della sessualità è trattata con tanta confusione e moralità dove finisce la libertà e inizia la perversione dunque più che altro la differenza qui è tra non è il cosa fai ma è il come lo fai la perversione è la perdita del verso giusto delle cose e il verso giusto non è un tipo di sessualità piuttosto che un'altra è essere consapevoli mentre fai quello che fai quindi non c'è un tipo di sessualità giusta o qualcosa che riguarda che collettivamente possa essere abbracciato come giusto collettivamente possiamo solo abbracciare una cosa essere consapevoli mentre si fa qualcosa qualunque cosa sia se io posso portare la mia consapevolezza cioè la mia presenza cioè non me ne vado non mi assento di fronte a la cosa più semplice che è spogliarmi davanti al mio partner alla cosa più pazzesca in un'orgia in Brasile quello che conta è quanto io sono qua quanto io sono qua perché a volte le sensazioni stravolgenti di spogliarsi e farsi vedere completamente nudi sotto la luce sono così forti che già basterebbero quelle essere presenti quindi non si tratta qua di moralità o di confusione la confusione come sempre chi la fa la visione frammentata delle cose perché un frammento ha una visione ogni frammento ha una visione strati possiamo prendere i frammenti che io metto in orizzontale e metterli in verticale e vederli come strati le idee sono organizzate per strati non comunicanti fra loro vuol dire che il senso di inadeguatezza non riconosce la superbia non si vedono il senso di inadeguatezza alla domanda tu ti senti inferiore o superiore beh inferiore ma non si rende conto che in realtà non esiste inferiorità senza superiorità se io mi sento inferiore a qualcuno necessariamente mi sentirò superiore a qualcun altro seguite? quindi questi frammenti cioè questi strati non sono comunicanti fra loro e quindi nasce la confusione la moralità è un sistema che più o meno dovrebbe mettere d'accordo tutti cioè se io dicessi ok prendo una posizione sessuale dico a quanti va bene questa? se la maggioranza alza la mano quella diventa moralmente una cosa che è possibile fare e dobbiamo accettarla tutti così funziona ha funzionato la società fino a poco tempo fa adesso stiamo andando rompendo schemi quindi la sessualità trattata con tanta confusione perché ovviamente è maneggiata con una frammentazione di sé dove finisce la libertà e inizia la perversione finisce la libertà quando è la mia inconsapevolezza butto la mia consapevolezza nella sessualità che è un'esperienza di energia molto forte ma l'ascolto di sé ti permette di capire se sì se no se ci sei se non ci sei la sessualità è un atto che guarisce se è consapevole se è inconsapevole è un atto che ci fa scappare quindi quanto io faccio sesso o qualunque altra pratica per non pensare o per ritrovarmi cioè sono consapevole o inconsapevole è semplicissimo a questo potrebbe alla parola sessualità potremmo sostituire le relazioni sono trattate con tanta confusione e moralità dove finisce la libertà e inizia la perversione nel senso di perdita del verso giusto delle cose non la perversione come una cosa sbagliata da fare è la perdita del verso giusto delle cose l'energia sessuale fa questo movimento e mi porta su e mi libera mi pulisce se io non sono presente la prima cosa che accade è che la sessualità diventa genitalità istantaneamente due cose che sfregano fino a che finisce dove sei? boh cosa è accaduto? niente se sono presente ma non ho il coraggio di sentire quello che sento diventa inizia a diventare una dipendenza trasformo il bisogno di muovere questa energia in coccole ma non di più quindi la perdita del verso giusto è a seconda di quanto io sono presente mi sento sento il mio potere sono capace di amare di dire la verità di vedere più in là di connettermi l'energia sale e seguo un verso giusto praticare la sessualità come diavolo vogliamo e non dico diavolo a caso fa benissimo purché prima ci sia una piccola cosa fondamentale ama Sant'Agostino diceva ama e fai ciò che vuoi ama e fai ciò che vuoi non potrai quando farai ciò che vuoi finalmente potrai amare no al contrario ama e fai ciò che vuoi quindi la libertà finisce quando smetti di amare la perversione inizia quando smetti di amare la libertà ricomincia quando ami sono single da qualche tempo e questo sembra essere un problema più per gli altri che per me come posso spiegarglielo non puoi spiegarglielo al massimo quello che puoi fare se sei una persona particolarmente intelligente è vedere che se qualcuno viene a dirtelo sta toccando qualcosa che lo pensai pure tu il fatto di credere che quello che ci dicono gli altri è qualcosa che pensano solo loro è un errore malornale se qualcuno mi dice qualcosa punta il dito su qualcosa è possibile che quella cosa stia parlando di me è possibile dipende non facciamo sempre un è sempre così o è sempre colà un piccolo metro di paragone che vi do e voi un piccolo una piccola bilancia se quello che ricevete non vi dà fastidio ovviamente il problema è dell'altro il problema inizia a essere nostro quando la reazione è sovradimensionata se a questa persona arrivano e gli dicono è ancora single ecco palle ok il problema forse forse non è dell'altro che tu sei single mi seguite? se tu sei single si vabbè tu sei single si vabbè alla quinta che palle continua ad essere tuo il problema perché non importa quante volte te lo dicono se la vita continua a dirtelo è perché qualcuno traduce semplicemente la tua energia è che